Quasi sei italiani su dieci non resteranno a casa per Ferragosto e si metteranno in viaggio. Weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del capodanno estivo. La stragrande maggioranza degli italiani emerge da una ricerca della Coldiretti, si metterà dunque in movimento e solo per poco meno di un italiano su quattro il Ferragosto è un giorno come tutti gli altri e non intenderà fare nulla di particolare. Con le ultime partenze salgono a 21 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa ad agosto. Queste le riprese video dall'elicottero della Polizia di Stato sull'esodo estivo Nodo Bolognese.